Siamo a Palazzo Vallelonga con il presidente della Banca di Credito Popolare di Tore del Greco, Mauro Ascione. Mancano ormai pochi giorni a Natale, un Natale inedito ai tempi del Covid, ma sicuramente non è mancata la solidarietà di questa banca da sempre vicina al territorio, alle famiglie e alle imprese. Un Natale inconsueto, un Natale dove si vive anche un velo di tristezza per questa emergenza che stiamo vivendo, quindi mi sia consentito innanzitutto di esprimere vicinanza alle famiglie che hanno particolarmente sofferto per questa epidemia, quindi il primo pensiero va sicuramente a loro, anche in particolare alle famiglie molto vicine alla BCP e che purtroppo vivranno un Natale molto triste. Abbiamo in qualche modo replicato quello che avevamo già realizzato nel mese di aprile scorso, quindi sostenendo queste associazioni al quale io rivolgo un ringraziamento perché sono le braccia vere operative della solidarietà, quindi la banca vuole essere dietro alle persone che si impegnano per far sentire meno pesante questo Natale. Ci stiamo per lasciare alle spalle un anno davvero complicato, un'emergenza sanitaria che ancora non è terminata e parallelamente un'emergenza economica, nella nostra città si respira questa crisi, facciamo un'analisi, una riflessione in merito. Io credo che oltre all'emergenza sanitaria che è sicuramente il diritto alla salute primario c'è un'emergenza assolutamente economica. Abbiamo riscoperto i valori della vicinanza, il valore di stare vicino ancora di più alle imprese e alle famiglie e questo credo che sia stata anche tra virgolette un'opportunità di far sentire il valore di una banca di territorio rispetto magari a delle banche di interesse nazionale e quindi il rapporto con la relazione umana è stato determinante. È stato un anno difficile, complesso, io ringrazio a tutti di vendere nella banca di credito popolare perché si sono adattati sotto la guida del nostro direttore generale a un modo nuovo di lavorare, un modo nuovo di approccio senza far mancare un giorno di chiusura delle nostre filiali. Quindi siamo stati, sono stati molto molto bravi e quindi il nostro ringraziamento va innanzitutto a loro. Siamo consapevoli che ci aspetta sicuramente un percorso ancora in salita perché gli effetti del Covid lo vedremo fra qualche mese, però siamo certi di poterlo affrontare, siamo consapevoli sicuramente con una banca migliore, con una banca che ha dei motori più forti e quindi anche se il percorso lo vedremo in salita, noi abbiamo sempre l'obiettivo di continuare a crescere e di continuare in questo percorso virtuoso, oserei dire, della banca di credito popolare di Torre del Greco. Chiudiamo questa intervista con un messaggio di auguri, che cosa vuole augurare a questa comunità, ai cittadini di Torre del Greco? Ma io credo che oggi come oggi noi dobbiamo augurarci serenità, un ritorno alla normalità, una grande serenità, voglio augurare la forza di affrontare questo momento difficile, ci sono delle fasce della popolazione, mi riferisco agli anziani, che in questo momento forse sentono molto la solitudine, forse hanno perso una, perché per loro è fondamentale la relazione con le altre persone, hanno quasi perso un anno, mi riferisco soprattutto ai giovani, mi riferisco a coloro che fanno difficoltà nell'istruzione, nella didattica a distanza e quindi un augurio va a queste forze, anche nel mondo della scuola, abbiamo maestri, professori che stanno facendo l'impossibile per non far mancare in questo momento il sostegno alla formazione e all'educazione, quindi un augurio di serenità, di un presto ritorno alla normalità, ma un augurio in particolare lo faccio a quelle persone che nel periodo del Covid si sono impegnate in modo straordinario per dare quantomeno la parvenza di una vita normale per tutti quanti e poi ringrazio voi di TV Siti che ci assicurate sempre, voglio dire, con il vostro lavoro, con il vostro impegno, la possibilità di comunicare e di aggregare anche questa nostra comunità che mai come in questo momento ha bisogno di stare insieme e stringersi insieme in un momento difficile, ma che supereremo brillantemente. Un augurio a tutti da parte della Banca di Vito Popolare.